Chi sono questi due che le stanno mostrando ora? Questo con la capigliatura bianca e l'altra nel quadro. Lui chi è? Allora, lei e Mary Lee Monroe. Sì, e lui? Einstein. Einstein. No, no, sta scattando delle Polaroid per poi rappresentarlo. Un turista. Come? Un turista. No, Andy? Armani, Armani! Ho alzato la mano, io bella. Paolo, l'ho detto prima io. No, tu pari, l'ho detto prima io. Hai alzato la mano perché sono educato. Sono educato. Paolo, chi l'ha detto prima? Armani! No, l'ho detto io, Paolo, questo punto è mio, non me ne frega. Allora, chi è che ha detto Armani? L'ho detto io, Family Day, sempre, vorrebbe. Chi l'ha detto? Io! Io l'ho detto io. Avete detto tutti e due una cazzata. Allora, io ti giuro una cosa, io sono sconvolto.